Signori, in questo video veloce vi annuncio con grande gioia nel cuore che anche io finalmente ho aperto il mio server Discord. Per chi non conoscesse Discord ve lo spiego alla veloce in meno di 30 secondi, quindi parte il countdown. È un sito gratis che potete scaricarlo sia per cellulare che per computer. E sostanzialmente in questo server potrete parlare con i vostri amici, con tutti quelli che ci sono dentro e tra l'altro ovviamente ci sono dentro anch'io. Quindi se mi volete chiedere qualcosa, tech, mi inviate il messaggio e io vi risponderò praticamente subito, tanto ce l'ho sempre alla portata di mano. Lo so, voi potrete dire ma è solo una chat? Cosa c'è di interessante? Perché mi conviene entrare? Tranquilli, ve lo spiego io. Nel server oltre a una chat testuale ho inserito una chat, tra virgolette, vocale, nella quale appunto potrete parlare, sentirvi voce a voce con i vostri amici oppure tramite un bot che ho inserito potrete ascoltare la musica. Eh sì signori, potrete ascoltare qualsiasi tipo di musica anche nel mio server, quindi tanta roba. In caso ora vi farò partire qualche immagine, sperando che il master dell'editing abbia voglia di inserirla. Eh sì, sono io il master dell'editing. Inoltre ci sono anche diversi tipi di canali, perché si si chiamano canali, come ad esempio il canale nel quale inserisco i video che sono usciti nuovi, quindi se qualcuno se lo fosse perso e non voleva perdersi assolutamente quel nuovo video, tech, che basta cliccare sul link che inserisco giornalmente e andrete subito dritti al video. Inoltre una stanza fighissima è quella per i consigli per i miei video, ovvero in quella stanza inserirete i consigli che volete, quelli più belli, quelli più strani, quelli più assurdi che avete sentito nella vostra vita, li scrivete, io li leggo e se è un'idea carina o comunque fattibile ci potrei anche fare qualche video sopra, quindi più scrivete meglio eh. Poi ovviamente c'è l'immancabile stanza per i meme, nella quale ognuno può inserire tutti i meme che vuole e lì, vabbè, c'è da ridere proprio, già ne hanno inseriti alcuni che non sto neanche a farvi vedere perché sono ignorantissimi, ma signori, la cosa più bella che farà dire a tutti, wow, voglio entrare in questo server, è il fatto che nel mio server Discord ci sia una stanza apposita, preparatevi, rullo di tamburi, brrrr, per giocare a Pokémon. Cioè dai, a chi non piacciono i Pokémon? A chi non piacciono i Pokémon? Ho deciso di inserire questo bot che si chiama PokéCord, che credo sia il più bello della storia, nel quale, o meglio, grazie al quale, se inserirete vari comandi, che vabbè, ho scritto tutto nelle info di come giocare, appariranno appunto dei Pokémon selvaggi e come nel gioco vero che tutti noi conosciamo, li potrete catturare. Oh mio Dio! E più scrivete nel server, più aumentano di livello. Oh mio Dio! Cioè, è devastante, io vi dico già che c'ho un leggendario e non vi dico quale, ve lo lascerò scoprire una volta entrati nel server, tipo c'ho Abra, poi c'ho Charmander, che tra poco mi si evolve in Charizard, oddio, è devastante Charizard, e molti altri, e siamo già in un po' che stiamo giocando, e che fai? Non vuoi entrare nel server a giocare a Pokémon? Guarda che siamo già in un po', eh? Oh, poi ti perdi tutti i Pokémon migliori, a te la scelta. Quindi signori, questo era un video veloce per il mio server Discord, vi ho spiegato un po' tutto quello che c'è, Molto probabilmente inserirò anche altre cose, molto interessanti, ho già dei bot lì pronti pronti per entrare, lo miglioreremo, aumenteremo, per ora siamo già in un po', però più gente siamo, meglio è. Ci sono anch'io, mi potete salutare quando volete, e mi potete anche chiedere un consiglio, sempre quando volete. Io vi ringrazio per la visione di questo piccolo veloce video, e vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero 2.45, con un nuovo video. Ah, e il link ovviamente del server Discord è in descrizione. Quindi, se vi va, entrate pure. Noi intanto andiamo a giocare a Pokémon. Ciao! Ciao!